cari amici del canale youtube dentro la notizia robimaster in questi giorni sui mass media sono comparsi alcuni articoli che miravano a dipingere orban come un dittatore e uno schiavista prendendo a pretesto la legge che è stata appena deliberata in parlamento che aumenta la possibilità di fare straordinari dalle 250 ore annue alle 400 quest'oggi sentiremo invece direttamente la versione di orban e di altri a lui vicini riguardo sia a questa legge che alle proteste e a chi c'è realmente dietro fatto questo avremo a disposizione un quadro più completo su cui riflettere e noteremo come anche dietro questioni che solo apparentemente nulla centrano con l'immigrazione vi sia invece una stretta relazione con la global combat veniamo ai fatti lo scorso mercoledì il parlamento ungherese ha votato l'innalzamento della soglia per gli straordinari annui da 250 ore a 400 l'opposizione ha bloccato il palco dell'oratore e ha ostacolato i procedimenti con fischi e urla nel tentativo di ostacolare il voto e ha successivamente manifestato nelle strade la legge è stata firmata giovedì dal presidente janos ader per quanto riguarda la legislazione stessa orban ha affermato che l'emendamento vieta chiaramente di obbligare qualcuno a fare gli straordinari chiunque dice il contrario sta mentendo ha detto ha dichiarato inoltre che i salari sono aumentati negli ultimi 4 5 anni consecutivamente ma la legge che era in vigore prima dell'emendamento poneva stupide restrizioni su coloro che volevano guadagnare di più e sarebbero stati disposti a lavorare di più ha detto il primo ministro proprio come hanno fatto in passato i lavoratori continueranno a ricevere sia le loro retribuzioni regolari che quelle straordinarie alla fine del mese anche in futuro ha poi chiarito gli emendamenti rappresentano un vantaggio per le piccole medie imprese di proprietà ungherese che non dispongono delle risorse per gestire la carenza di mano d'opera che hanno invece le multinazionali di proprietà straniera ha proseguito il primo ministro ungherese se le cose stanno realmente così cosa c'è dietro le proteste di questi giorni a nessuno può essere permesso di fare violenza bisogna tracciare una linea di demarcazione netta tra la libera espressione delle proprie opinioni politiche e il vandalismo ha detto il primo ministro victor orban in un'intervista all'emittente pubblica cossut radio riferendosi alle recenti manifestazioni anti governative orban ha criticato il danno causato dai manifestanti la scorsa settimana su cossut square dicendo che è stata una grave cosa in termini legali lanciare fumogeni contro la polizia non sono mai le persone ben intenzionate a lanciare bombe fumogene ha detto osservando che lo scopo delle bombe fumogene era oscurare la visione ciò nonostante orban ha detto di aver chiesto al ministro degli interni di assicurarsi che la polizia risponda fermamente ma con pazienza alle azioni dei manifestanti e sono riusciti a fare questo ha detto orban e affermando il sostegno del governo per le forze di polizia il fatto che la polizia non si macchi di violenze gratuite o abuso di potere come spesso accade è molto importante ad ogni modo possiamo notare una certa differenza tra le parole di orban che denotano un certo grado di sensibilità e quelle di macron che hanno dato via libera alla violenta repressione della polizia francese contro i gile gialli e altri che nulla centravano è giunto il momento di venire al dunque orban identifica il problema accusando il partito più aggressivo e più attivo tra quelli che protestano contro il recente emendamento al codice del lavoro è sul libro paga del finanziere statunitense george soros ha aggiunto che le dimostrazioni erano anche in parte legate alle reti internazionali il primo ministro ha detto di aver visto anche tracce di questo fenomeno a livello internazionale sostenendo che i governi di destra sono sotto un attacco di fuoco ovunque i funzionali dell'opposizione sono responsabili di aver aizzato diversi manifestanti che hanno fatto ricorso alla violenza questo anche parere di gergeri gulias secondo quanto dichiarato al sito web mandiner inoltre l'opposizione considera la violenza uno strumento politico legittimo ha detto aggiungendo che essi stessi hanno lanciato fumogeni contro la polizia che il comportamento dell'opposizione in parlamento mercoledì è stato illegale aggressivo e violento la gente ha ritenuto che se questo tipo di comportamento fosse corretto in parlamento allora sarebbe stato appropriato anche per la strada ha detto né i parlamentari dell'opposizione né gli attivisti politici possono stare al di sopra della legge ha concluso gergeri gulias affrontando la questione della recente legge che espande la quantità di straordinari che un datore di lavoro può richiedere ha affermato che il consenso volontario di un dipendente è necessario inoltre ha aggiunto gulias i straordinari devono essere pagati su base mensile confermando così quanto detto da orban prosegue dicendo qualsiasi estensione dei tempi per il pagamento degli straordinari è possibile solo se questo è stabilito nel contratto collettivo tra datori di lavoro e dipendenti balaz idveghi portavoce di fidez il partito di orban ha riferito che i deputati dell'opposizione che hanno protestato trascorrendo la notte presso la sede dei media pubblici della mtva lo hanno fatto come una scusa per ottenere informazioni per l'attivazione dell'allarme antincendio e per attaccare violentemente il personale della tv pubblica idveghi ha detto che i deputati dell'opposizione hanno abusato dei loro poteri e delle autorizzazioni derivanti dal loro mandato che il loro obiettivo evidentemente era quello di intimidire i giornalisti e ha aggiunto che questi sono metodi ben noti della rete soros pro immigrazione victor orban spera che più politici nazionalisti entrino nel parlamento europeo per cambiare le tendenze commentando le elezioni parlamentari europee del prossimo anno il primo ministro ungherese ha affermato che il paese ha bisogno di parlamentari europei che rappresentino l'ungheria a bruxelles e non bruxelles in ungheria victor orban ha detto che il punto di vista dell'opposizione è che l'ungheria dovrebbe fare tutto ciò che bruxelles dice di conseguenza coloro che eleggeranno rappresentanti dell'opposizione al parlamento europeo invieranno in realtà persone che non rappresenteranno l'ungheria a concluso orban cosa pensate le recenti manifestazioni violente in ungheria apparentemente motivate dall'ampliamento della possibilità di fare straordinari è possibile che siano motivate invece dai denari di soros che mira rovesciare il governo che si oppone all'immigrazione di massa oggi abbiamo potuto vedere l'altra faccia della medaglia giusto per cercare di fare un ragionamento imparziale ieri avevamo riportato la notizia che orban aveva messo sotto il controllo del governo la quasi totalità dei mezzi di informazione privati filo governativi ovviamente escluso quelli di opposizione oggi abbiamo visto una possibile motivazione cioè un tentativo di orban di difendersi dai potenti attacchi di soros vi ricordo anche che in un passato tg flash che vedete qui nella immagine avevo messo a nudo i trascorsi di amicizia di orban con soros e che quest'ultimo aveva pagato gli studi universitari del primo ministro ungherese ora indagando più a fondo sembrerebbe che tra orban e soros ci sia una reale inimicizia dovuta tra l'altro alla volontà del finanziere di invadere l'europa con i migranti ma non finirò di scavare per capire se come dice qualcuno vicino a soros ci siano dei motivi personali e quali siano alla base di questo contrasto tra i due ora andando a riprendere alcune dichiarazioni di qualche mese fa ho trovato interessanti queste di giorgia meloni e di matteo salvini che vi riporto su rai news del 10 aprile potete leggere quello che il leader di fratelli italia dice su orban fa gli interessi del suo popolo perché difende l'identità cristiana dell'europa dice no al processo di islamizzazione forzata e non ha paura di combattere contro la speculazione finanziaria negli ultimi anni orban ha investito miliardi per il sostegno delle famiglie delle fasce deboli e non risponde ai diktat del globalismo imperante di sicuro orban è un modello affine a quello di fratelli d'italia il premier ungherese è un patriota a programmi signi ai nostri le nostre fondazioni lavorano assieme a mio giudizio deve diventare un esempio anche per l'intero centro-destra italiano bisogna preferire il popolo all'establishment e dare risposte ai bisogni della gente non agli interessi dell'unione dei burocrati più di recente anche il ministro salvini aveva confermato la sua volontà di fare fronte comune con orban contro l'elite europee con queste parole del 18 settembre le sanzioni contro il popolo il governo ungherese sono un atto politico una follia di quell'europa di sinistra che non si rassegna il cambiamento e sono convinto che tra qualche mese ci troveremo a governare l'europa in compagnia di victor orban di rimando il primo ministro ungherese asseriva l'anno prossimo cambieremo completamente l'europa escludendo i socialisti dal governo dell'europa mettendo al centro il diritto alla vita al lavoro alla famiglia alla sicurezza stiamo lavorando con altri partiti popoli e governi europei per cambiare la storia di questo continente nel maggio prossimo e il nucleo parte proprio da vienna da milano da roma i giorni di questo parlamento ha concluso orban e della commissione sono ormai contati spero che nel parlamento eletto in futuro non ci sia una maggioranza pro migranti violenza in parlamento occupazione della tv di stato attacchi contro la polizia fomentati dai partiti di opposizione pagati da soros è in corso un tentativo di colpo di stato per far accettare all'ungheria una politica di immigrazione di massa l'italia dovrebbe fare fronte comune con chi si oppone alle losche trame di soros company non solo in ambito di immigrazione oppure dovrebbe percorrere una strada diversa cosa ne pensate cari amici continuiamo a tenere il faro puntato sulle losche trame dell'elite e se avete da aggiungere qualcosa riguardo o dei suggerimenti sarò lieto di prenderli in considerazione aiutatemi a far conoscere questo canale che si propone di fare gli interessi di tutti e sosteneteci con una donazione per permetterci di continuare a fare questo lavoro a beneficio di tutti un abbraccio dal vostro robimaster